Estate, tempo di bilanci, tempo anche di scoprirsi un pochino di più e quindi di vedere più da vicino il nostro fisico e anche magari purtroppo questo è anche il momento in cui viene fuori qualche difetto. Allora è il momento forse di correre ai ripari, la voglia anche di migliorarsi. Siamo venuti nello studio di un esperto, il dottor Alfonso Milone. Grazie innanzitutto per averci accolto. Buongiorno. Allora dottore è ancora possibile intervenire in qualche modo? Diciamo che in questo periodo le donne fanno la prova costume, che è una cosa che voi penso la facciate tutti. E cosa succede? Che vedono dei piccoli inestetismi, voi sia sul viso che anche sul corpo. Per quanto riguarda il corpo le cose più importanti da non fare adesso sono gli interventi massivi, cioè le grandi liposuzioni o eventualmente fare delle mastoplastiche. Perché con il caldo abbiamo un po' di problemini sia per quanto riguarda la cicatrizzazione che anche per la ripresa del trattamento dopo il trattamento. Invece conviene fare in questo periodo, se si vuole, magari delle terapie un po' più blande, tipo radiofrequenza, cavitazione, che si possono fare sia sul corpo, se magari c'è qualche cuscinetto in più, oppure sul viso. Nel viso suggerisco radiofrequenza in associazione magari con dei filler che rivitalizzano, perché con l'estate abbiamo la pelle che diventa molto secca. E quindi cosa succede? Puoi dare tante creme idratanti dall'esterno, però non servono abbastanza per quello che serve alla ruga per aiutare la pelle a riidratarsi. E quindi cosa conviene? Fare delle piccole iniezioni di acido iuronico per idratare dal profondo e poi dopo dei trattamenti stimolanti o rivitalizzanti, sempre con radiofrequenza esternamente. Però, ripeto, interventi massivi dell'estate non conviene farli, anche perché se no non abbiamo dei risultati ottimali. Ecco, non c'è il tempo esattamente per guarire, per rimettersi in forma, per sgonfiare anche i tessuti. Magari su questo argomento torneremo in un momento futuro. Le chiedo però qual è il momento migliore dell'anno nel quale eseguire questi interventi. Diciamo i periodi in cui non si suda, perché d'inverno una miglior cicatrizazione si avviene se non abbiamo una sudorazione eccessiva. Voi dovete immaginare che dopo una riposizione, specialmente le gambe o la pancia, bisogna tenere per almeno un mese e mezzo una guaina contenitiva con il caldo o stanno in casa con l'aria condizionata accesa 24 ore su 24 oppure non conviene. Quindi è sempre meglio il periodo più fresco, quindi d'inverno.